200 bambini delle scuole primarie di Fano che hanno partecipato al concorso da grande Vorrei fare l'inventore si sono ritrovati ieri pomeriggio allo Sport Park di Fano. L'iniziativa, nata nel settembre 2009 in memoria di Alessandro, il bimbo morto sei anni fa per l'eucemia, è promossa dall'associazione Il Piccolo Grande Alessandro, di cui è presidente la mamma Giorgia Marcelli. Quest'anno sono stati due i temi su cui hanno lavorato i bambini, sia singolarmente che in collaborazione con genitori e insegnanti, la costruzione di un gioco con materiale da riciclo e come vorrei la mia città. I primi classificati sono quelli che hanno vinto costruendo dei plastici su come immaginano dei quartieri della loro città, come i passeggi e la zona della scuola Nuti. Come si immaginano i bambini nella città di Fano? L'immaginazione dei bambini è secondo me molto bella, spesso purtroppo un po' realizzabile visto il contesto quotidiano. Loro immaginano sempre tanti parchi pieni di piante, fiori, giochi, quindi parchi giochi, insomma proprio dove loro possono correre liberamente a destra e sinistra e divertirsi. Comunque sono stati premiati tutti i 200, erano in tanti? Sì, quest'anno ho 200 bambini, tutti premiati e per me hanno diritto tutti a essere premiati perché per noi già il fatto di aver partecipato ci dà tanto calore e vicinanza nel ricordare Alessandro. Per riportare la sua testimonianza e raccontare l'intento dell'associazione, circa un mese fa Giorgia è stata invitata in un istituto scolastico. Durante l'incontro con i piccoli alunni, uno in particolare le ha rivolto una domanda che le è rimasta ben impressa. Ma secondo te Alessandro è contento, orgoglioso di noi che partecipiamo al concorso? E io ho fatto, cioè certo, è contentissimo e penso anche che durante tutto il percorso che avete fatto voi per costruire, mese dopo mese, il vostro progetto, lui è sempre stato lì con voi. Grazie a tutti.